Rincari di oltre il 100% per le bollette di moltissime aziende italiane, dal settore del turismo a quello manufatturiero come carta e ceramica. Inoltre molte famiglie in difficoltà dovranno scegliere se pagare la bolletta o fare la spesa settimanalmente. Le attività che hanno bisogno di molta energia per funzionare stanno lavorando a regime ridotto per mantenere i costi sostenibili. Un aumento energetico che metterà in ginocchio le famiglie a livello nazionale e a livello regionale. Come controllare i consumi? Per controllare i consumi dovremmo intanto tenere a bada i costi, confrontare la nostra bolletta e imparare a leggere la nostra bolletta affidandoci ad un consulente specializzato. Di quanto aumenteranno i costi? I costi aumenteranno purtroppo di circa il 30% per quanto riguarda l'energia elettrica e il 50% per quanto riguarda il gas metano.